Bene, ciao a tutti, questo sarà un video che credo breve, anche perché arrivati al numero 452 di Dylan Dog, Un tranquillo venerdì di paura, bel titolo perché così ci ricorda, ci fa venire alla mente il capolavoro di John Burman e bella anche la copertina dei fratelli Cestaro, è un numero secondo me di scarso interesse. Questo sostanzialmente non fa che riaffermare un mio gusto personale rispetto all'opera di Landoghiana di Gigi Simeoni che è un autore qui, autore del soggetto della sceneggiatura per i disegni del grande Bruno Brindisi, ma Simeoni è anche comunque un grande disegnatore e io in particolare ho amato alcune sue opere come Gli occhi il buio e Stria, tra l'altro di Stria se ne parla anche, non mi ricordo se è nella playlist graphic novel o nella playlist Bonelli, perché si tratta di una graphic novel della Bonelli, così della collana Buonanima, uscita qualche tempo fa. Ma devo dire che le ultime collaborazioni di Simeoni con Dylan Dog mi hanno sempre lasciato abbastanza deluso, un po' perché c'è un primeggiare dell'aspetto ironico, grottesco, su quello prettamente horror. Quindi in qualche modo ci si allontana anche da quelle che potrebbero sembrare essere le linee guida di questa prima tranche della gestione Baraldi, che in termini di horror e atmosfere violente e disturbanti, così ce ne ha offerte parecchie. Qui siamo più su una sorta di versante giallorosa che d'altra parte è cercato, è voluto, viene evocato anche dalla stessa Barbara Baraldi nell'editoriale. Lei cita questo proposito classici dell'umor nero come, non mi viene il titolo, il film di Robert Moore, quello con tutti gli investigatori, come invito a cena con delitto, ma poi cita anche La congiura degli innocenti di Hitchcock, che era servito tra l'altro a modello anche a un albo di qualche mese fa, La congiura dei colpevoli, ribaltando il senso del titolo, ma insomma lì Hitchcock è decisamente ben altra cosa. Qui abbiamo in copertina, credo per la prima volta nella storia di Dylan Dogg, Madame Trelkowski, un personaggio tra l'altro che appartiene al Dylan Dogg classico, che non vediamo da molto tempo e che a me piace molto, e che quindi sono contento di vedere tornare sulle pagine dell'indagatore dell'incubo, ma tutto nasce da un'eventualità abbastanza inedita nella serie, e non so fino a che punto felice. Allora diciamo subito che questo tranquillo venerdì di paura esordisce con Dylan Dogg che si trova con l'auto in panne lontano da Londra e questa è una situazione che nell'ultimo anno abbiamo visto veramente forse troppe volte, forse sarebbe ora di finirla, di far fermare il maggiolino lontano da Londra, però questa volta succede qualcosa di molto particolare, cioè si fermano vicino a una sorta di bed and breakfast amministrato da una signora, la signora Therese, questa signora qui è una signora un po' pingue che fuma il sigaro e che è la zia di Graucio, anche se poi diciamo la parentela con Graucio riserverà così delle sorprese, delle precisazioni che verranno fatte a fine albo, però in generale mi sembra proprio come idea poco felice, perché è una delle caratteristiche di Graucio e questa è stata una caratteristica sposata anche da altri sceneggiatori, cioè non soltanto, anzi forse proprio in qualche modo impostata addirittura da altri sceneggiatori, perché se Tiziano Sclavi ha sempre glissato sul passato del personaggio non ritenendo utile rivelarcelo, ecco che Roberto Recchioni e Alessandro Bilotta hanno fatto qualcosa in più raccontandocelo, tra l'altro Bilotta anche con esiti all'interno del volume, all'interno della collana del Pianeta dei Morti, con esiti anche veramente brillanti, e entrambi convergevano su una cosa, cioè come sul fatto che in realtà Graucio sia un uomo dal passato, misterioso, imprendibile, addirittura le buonanime dell'ispettore Carpenter e di, non mi viene il nome madonna, insomma della, l'aiutante insomma di Carpenter, e praticamente non si trovavano di fronte a un uomo che non aveva documenti, non aveva su di sé nessun modo per risalire allo stabilire una reale identità, quindi Graucio veramente è sempre stato l'uomo del mistero, e qui improvvisamente, e in modo molto tranquillo, molto naturale, senza nessun problema di essere preso in contraddizione, fin dall'inizio lo vediamo interagire appunto con questa zia, che è circondata da una serie di avvenimenti che, se non delittuosi, comunque possono essere funerei, e a metà albo, quando ancora di fatto non è partita nessuna indagine su di lei, ecco che Madame Trelkovsky subisce un'aggressione da uno sconosciuto che la pone, diciamo, tra la vita e la morte, proprio in un letto d'ospedale come quello che abbiamo visto. Allora, il registro giallorosa, e qui è un mio problema, forse non mi piace, non mi convince, io sono per un Dylan votato all'horror, o se mai a quell'assurdo, quel tono quasi da teatro dell'assurdo, di cui Sclavi è stato maestro, ma che è stato replicato bene da altri sceneggiatori, per esempio, forse più di tutti Ambrosini, ma in parte anche Bilotta, e là il colpo di scena, che a un certo punto emerge, secondo me è abbastanza telefonato, diciamo che l'aspetto poliziesco della trama non è particolarmente intrigante e non è nemmeno particolarmente sorprendente, così come, tutto sommato, i modi che Simeoni mette in gioco per sviare i sospetti del lettore non sono poi così ingegnosi e io credo che, tutto sommato, dove si voglia andare a parare lo si indovina abbastanza presto. E poi c'è la gestione di Graucio, che secondo me in Simeoni è particolarmente deleteria. Io ricordo ancora l'albo Infernauti, che forse toccava un po' l'acme di questa tendenza, perché appunto Graucio continua a essere un nastro erogatore di battute una dietro l'altra, molesto, cioè decisamente molesto a un certo punto e al quale si vorrebbe veramente porre un limite. Concludo dicendo che anche l'entrata in scena di Block mi sembra di rara inutilità, non mi sembra che aggiunga qualcosa o che serva, ecco, che a un certo punto arrivi Block in scena. Faccio questa recensione dopo una prima lettura che è avvenuta qualche ora fa, quindi diciamo mi riservo rileggendolo nel caso magari di retificare nel video del prossimo mese se c'è qualcosa che ritengo di essermi perso o su cui essere stato ingiusto, però diciamo nel complesso è un albo che a me non è piaciuto molto e l'ho trovato un po' deludente. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona giornata.